Anche a Pescara, mattinata dedicata allo spoglio per il rinnovo del Consiglio provinciale per i prossimi due anni. Il presidente Ottavio De Martinis ha invece mandato quadriennale, dunque rimarrà in carica col nuovo Consiglio. L'affluenza di ieri al voto è stata pari all'87%, su 590 menti di diritto hanno depositato la scheda nell'urna 513 elettori. A votare sono stati i sindaci e i consiglieri dei 46 comuni della provincia pescarese in carica alla data dell'elezione. Le operazioni di scrutinio, iniziate alle 9, sono state presiedute da Paolo Di Gabriele, funzionario della provincia. Insieme a lui c'era Marco Scorrano, responsabile del procedimento. 5 le liste presentate, una del centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle, mentre il centrodestra ha deciso di correre diviso. Eccole, provincia nuova, Fratelli d'Italia, Polo Civico, Forze di Libertà, Lega per il territorio. 38 i consiglieri in corsa, 12 quelli da eleggere. Le operazioni di scrutinio sono terminate, ma sono ancora in corso i lavori dell'ufficio elettorale per la predisposizione dei verbali, per cui la lista degli eletti è provvisoria. L'ufficialità ci sarà domani mattina nel corso della proclamazione degli eletti. Se fosse una competizione calcistica, centrodestra batte centrosinistra 8 a 4. I nomi. Lista Pescara, provincia nuova, tre eletti, Gianni Chiacchia, Piero Giampietro e Alberto Bartoli. Lista Fratelli d'Italia, due eletti, Davide Berardinucci e Filippo Maria Mariani. Lista Polo Civico, un eletto, Giovanni Mancini. Lista Forze di Libertà, quattro gli eletti, Emidio Camplese, Giorgio De Luca, Gianfranco De Massis e Augusto Orecchia. Infine, lista Lega per il territorio, due eletti, Antonio Romano e Gabriele Colasante.